Come applicare qualsiasi shader su Minecraft? Ovviamente questa è la versione 1.20.4, ma ti consiglierò così un sito per scaricare una shaders che è compatibile con tutte le versioni che hai giocato a Minecraft. Quindi in questo caso andiamo direttamente sul sito. Il sito te l'ho lasciato in descrizione, quindi in questo caso tu qua puoi trovare qualsiasi shaders che tu vuoi e applicarla su Minecraft. Ma prima di applicare così una shaders bisogna installare l'Optifine di Minecraft, quindi l'Optifine Ultra HD sulla tua versione di Minecraft. Quindi in descrizione ti ho lasciato anche il link, ho lasciato anche il pacchetto Optifine, questo qua HDU17 che bisogna poi estrarlo con WinRAR. Estrai così il pacchetto Optifine con WinRAR perché poi dobbiamo inserirlo nella cartella di Minecraft. Quindi andiamo direttamente su AppData, vai su Esegui, scrivi Esegui qua, scrivi %AppData% e fai OK. Roaming e vai su Minecraft. Ovviamente questo procedimento lo fa solamente chi non ha l'Optifine su Minecraft. Quindi io non avendo l'Optifine ho installato così il programma su Minecraft. Quindi in questo caso tu prendi così la cartella che hai estratto, quindi la cartella che proviene da questo pacchetto. Ecco la quale abbiamo estratta ed ecco la cartella. Copi tutti questi file, fai copia e le inserisci nella cartella di Minecraft. Fai copia e sostituisci qua dentro. Una volta fatto, quello che ti resta da fare è andare su Minecraft, vai su Opzioni, Grafica, Shaders ed eccole qua, le shaders. Vai su Cartella Shaders ed ecco le shaders dove le puoi mettere. Quindi tu scarichi così una shaders, io prendo questa qua, io questa qua l'ho provata e mi laggava parecchio. Quindi ecco la shaders, scendi fino a giù, come puoi vedere la differenza. Scendi fino a giù e scarichi il pacchetto, questo qua, Java Edition. Questo è il pacchetto che hai scaricato, non fa niente se non c'è questo logo zip, prendi questo pacchetto e lo metti qua dentro. Una volta fatto, ritorna su Minecraft ed eccola qua, Project Luma. Ci clicchi sopra per impostare la shaders. Per modificare anche la shaders, qui c'è la qualità rendering, quindi se ti lagga puoi ridurre la qualità rendering, qualità ombre e profondità di campo. E fai fatto. Ed ecco la shaders. Non badate questa schermata nera perché ho fatto delle modifiche sulle impostazioni grafiche per non laggare. Questa è la shaders. Quindi in descrizione ti ho lasciato il link per scaricare tutte le shaders che vuoi. E l'altro link che ti porterà a scaricare l'Optifine. Per installarla su Minecraft, senza l'Optifine non puoi mettere la shaders su Minecraft. Ovviamente la shaders richiede un buon pc, se slagghi anche con una piccola shaders, ti consiglio di rimuovere la shaders da Minecraft e giocartelo normalmente. Quindi shaders, facciamo non shaders. Ed eccolo qua, Minecraft senza shaders. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come applicare qualsiasi shaders su Minecraft, iscriviti, lascia il like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Grazie a tutti